Grazie Presidente. La modifica del regolamento Frontex che votiamo oggi mira il potenziamento dell'Agenzia europea, conferendo maggiori capacità operative e rafforzando il rispetto dei diritti fondamentali dei rifugiati, dei richiedenti asilo, ma soprattutto il divieto di rispingimento. L'istituzione di un responsabile dei diritti fondamentali nel Management Board di Frontex e l'obbligo di solidarietà tra Stati membri vanno in questa direzione. La riforma di Frontex deve permetterci di affrontare le reali urgenze migratorie in Europa. Proprio oggi il Financial Times ci ricorda che su 104.000 migranti giunti illegalmente nella UE nel 2010, circa l'85% arriva attraverso la Grecia e non tramite l'Italia o Malta. E così purtroppo sarà anche per il 2012 e il 2010. Solo se Frontex rispetterà pienamente i diritti umani dei migranti e permetterà di evitare le catombe di morti nel Mediterraneo, diventato ormai cimitero dove si spengono le vite e le speranze delle persone che fugono dalla miseria, dall'oppressione e dalla disperazione, potremmo dire di essere sulla giusta strada. Questa deve essere la missione di Frontex e il Parlamento europeo dovrà monitorare i progressi in questa direzione. Grazie.